Una puntata di Polifemo diversa, una puntata all'aria aperta, grazie al cielo la nostra provincia, la provincia di Taranto, ci riserva tantissime ricchezze. Oggi siamo presso l'oasi Lipu di La Terza, una sessantina di chilometri da Taranto. È la giornata importante perché è la giornata europea del beard watching, ossia dell'osservazione e quindi del censimento delle specie volatili degli uccelli. Un momento importante per rispettare davvero la natura, il creato e per valorizzare le nostre risorse in questa oasi. Quindi ho al mio fianco Vittorio Giacoya che è il responsabile dell'oasi Lipu di La Terza. Ricordiamo che questa iniziativa del beard watching rientra in una giornata europea dedicata appunto a questa osservazione dei volatili ed è un'iniziativa supportata, patrocinata anche dalla provincia di Taranto e dal comune di La Terza. E allora Vittorio Giacoya ci farà gli onori di casa e siamo qui proprio all'entrata. Vi seguiremo passo passo l'oasi, il percorso dell'oasi. Ecco il centro visite oasi Gravina di La Terza come si legge. E allora come è nata questa struttura, quando è nata e cosa fate di preciso? Questa struttura nasce nel 1999 grazie alla collaborazione che si viene a creare tra alcuni volontari dell'associazione della Lipu e la provincia di Taranto e il comune di La Terza. Quindi viene siglato un accordo per gestire questo territorio di circa mille ettari che è un luogo interessantissimo per la fauna e per la flora. E quindi viene siglata questa convenzione che cerca anche di valorizzare questo patrimonio naturalistico attraverso queste azioni di divulgazione e di educazione ambientale che noi facciamo tutto l'anno con le scuole o anche con i visitatori creando anche delle giornate evento tipo questa che servono per spiegare alcuni aspetti particolari che riguardano sempre la conservazione della natura. Quindi oggi è una giornata del beard watching però durante il corso dell'anno noi proponiamo almeno una ventina di eventi che riguardano diversi temi naturalistici come possono essere le orchidee spontanee di quest'area delle gravine oppure i funghi che hanno un interesse ovviamente edule e poi anche altri esempio sui mammiferi, su farfalle, insomma su tutto quello che riguarda l'ambiente naturale. Quindi c'è un calendario che può essere visionato anche sul nostro sito internet che è osilipugravinellaterza.it dove si trovano tutte le informazioni per poter poi organizzare una visita in questo territorio. Bene, e allora incamminiamoci in questa visita. Dicevo una manifestazione, un'iniziativa che ha avuto il forte supporto da parte dell'amministrazione comunale di La Terza motivo per il quale ho al mio fianco Mim Mastano che è assessore al marketing territoriale, al turismo e al bilancio del comune di La Terza. Il sindaco per impegni istituzionali non è qui tra noi ma avremo modo in altre puntate di scoprire le realtà di La Terza perché poi La Terza è un comune della provincia di Taranto importante perché crescendo La Terza cresce la provincia ionica e cresciamo un po' tutti. Io assessore devo dire che sono rimasto esterefatto, colpito positivamente, incantato. Ecco, questa è l'espressione che rende il mio stato d'animo vedendo questa immensità davvero della natura. Lei che si occupa di marketing territoriale certamente ci potrà dire quanto in termini di crescita economica e sociale del territorio queste ricchezze possono darci. Sì, noi da diversi anni siamo impegnati proprio nello sviluppo del territorio attraverso il marketing e attraverso soprattutto la collaborazione con enti, enti di carattura nazionale e internazionale con cui abbiamo stabilito dei rapporti. Abbiamo la LIPU che da 20 anni si occupa della gestione e della tutela di questa. Questa è un'ossi naturalistica istituita oltre 30 anni fa e quindi è affidata alla LIPU che ha questo compito della tutela, della valorizzazione e poi spesso fa anche degli progetti per la riproduzione di rapaci in via di estinzione. È il nostro bene principale. Questa è una gravina tra le più grandi d'Europa, la più lunga del parco delle gravine, tutte queste fessure che vanno verso lo Ionio. Ha una biodiversità ricchissima e per noi è diventato l'attrattore più importante proprio nel nostro progetto del turismo. In questo abbiamo la collaborazione di diverse associazioni, oltre la LIPU abbiamo il centro di educazione ambientale e poi tutta una serie di associazioni di carattere culturale che girano intorno a questo bene prezioso. Abbiamo elaborato proprio un piano strategico del turismo e siamo l'unico comune probabilmente in Puglia ad avere un piano del turismo approvato pure in consiglio comunale e che ha individuato gli attrattori su cui la terza deve puntare. Oltre questo attrattore turistico naturalistico, gli altri attrattori individuati sono la ceramica che è un bene culturale, artigianale, insomma secolare alla terza e che con l'apertura del Museo della Maiolica ha avuto un esploit e quindi ci sta dando proprio un'ampia conoscenza a livello mediatico. Abbiamo puntato sulla enogastronomia proprio fruendo della grande varietà di prodotti enogastronomici che la terza può offrire e che va dalla carne al pane, olio, vino, prodotti caseari, insomma abbiamo proprio tutta la gamma dei prodotti enogastronomici. Questa nostra attività, questo nostro progetto turistico si inserisce molto bene in Puglia 365, il progetto regionale. soprattutto quest'anno quando la regione Puglia ha individuato tre settori su cui proprio puntare e che sono sport, natura e benessere, quindi siamo qui nel bel mezzo della natura e siamo proprio centrati. L'enogastronomia e la cultura, quindi noi puntiamo su questi attrattori. Bene, allora rieccoci con il responsabile dell'OASI Lipu. Beh, ovviamente questa è materia sua, come detto con l'assessore io non trovo le parole per magnificare l'immenso. Ecco, questa è l'espressione. Ci dica un po', proprio ci esponga proprio le caratteristiche di quest'area. Sì, qui siamo nella parte della provincia di Taranto che è caratterizzata dalla presenza di canyon. I canyon, noi li chiamiamo qui localmente gravine perché è proprio grave, l'etimologia significa voragine. Queste sono delle voragine strette e lunghe che sono state scavate però da fiumi che oggi non ci sono più. Qui siamo su un territorio, un alto piano rauccioso di calcare duro, calcare di alta mura e l'acqua si è infilata in delle fratture che erano originate dalla tettonica, si è infilata in queste fratture e ha scavato il canyon. Poi approfondendo anche del sollevamento regionale questa incisione è avvenuta in profondità e quindi si è creato il paesaggio straordinario che noi oggi vediamo. Sono 12 chilometri di lunghezza, sono anche 200 metri di profondità e 450 metri di larghezza in media. È un ambiente che è rimasto praticamente intatto perché le uniche attività che nei millenni si sono svolte sono state quelle della pastorizia e un po' di taglio. C'è proprio una natura incontaminata, vergine. Qui sopravvive fauna che altrove in regione... Che tipi di specie animali? Sul fondo scorre ancora un torrente che in alcuni periodi dell'anno con le piogge diventa una rapida che è molto impetuosa eccetera. Però questo torrente conserva ancora delle specie, per esempio ci sono degli anfibi che vivono all'interno di quest'acqua, delle rane, l'ululone appenninico, sarebbe la bambina apachibus, ma poi ci sono anche la rospo smeraldino, le rane verdi, poi una serie di rettili, le bisce d'acqua, l'atrice tassellata che vivono all'interno di questo torrente. Ci sono dei pesci anche che vivono e poi ovviamente c'è tutta la fauna di uccelli che si riproduce sulle pareti rocciose, vanno anche degli aironi, delle ciconie vanno a pescare sul fondo questi pesci, questa fauna anfibia che si trova e poi c'è una serie di mammiferi, di specie di mammiferi che altrove sono scomparsi. Per esempio parliamo di volpi, istrici, tassi, faine, diciamo recentemente, ai cinghiali che sono stati introdotti dall'uomo. Ovviamente grazie a Dio qui la caccia non ci arriva? Qui la caccia è vietata assolutamente, siamo all'interno oltre che dell'oasi del parco regionale Terra delle Gravina, quindi è vietata l'attività venatoria e quindi questa è un'oasi vera e propria. Un'isola felice? Un'isola felice dove ovviamente la fauna si riproduce, è abbastanza tranquilla. Ovviamente noi proponiamo una visita sul bordo di questo kenio. In effetti sarebbe un po' pericoloso, bellissimo però rischioso per chi non è molto impervio scendere giù, non ci sono sentieri, oppure quelli storici sono ormai obsoleti, non sono più frequentati da pastori e quindi sono chiusi. Quindi noi il sentiero che proponiamo è quello di 5 chilometri che costeggia il bordo e fa mirare in tutta la lunghezza questo canyon, questo sentiero è lungo 5 chilometri e fa vedere proprio dei belvedere, ogni 500 millimetri c'è un belvedere fantastico perché la gravina è serpentiforme, cioè meandriforme, non è rettilinea, quindi offre una serie di paesaggi, panorami spettacolari. E' giusto anche ascoltare le impressioni, così lo stato d'animo dei visitatori, beh mi hanno colpito loro perché erano in tenuta proprio da escursione. Da dove venite le impressioni? Allora, buongiorno innanzitutto, io vengo da Castellana Grotte, come la mia ragazza diciamo. Però l'accento indica altra provenienza. Di origine bellunese, abito da 10 anni in Puglia, arrampico ormai da 9 anni, più o meno diciamo, quindi fin dall'inizio. Qui hai provato? Sì, diciamo, proviamo in diverse zone della Puglia, quindi nelle nostre gravine, diciamo, vostre in questo caso, vostre gravine molto belle, particolari, diciamo, pratichiamo questa attività, diciamo, a mio avviso molto molto bella e interessante. Un po' pericolosa forse? Assolutamente no, io sono sempre dell'opinione che se fatta in sicurezza, l'arrampicata è uno degli sport molto molto sicuri, però ovviamente bisogna fare molta attenzione, ecco, e non essere superficiali soprattutto. È davvero bello il contatto diretto con la natura? Certamente, è assolutamente importante cercare sempre e ovunque il contatto con la natura perché ti mette, diciamo, in condizioni di sbagare il pensiero. Di ritrovare anche se stessi? Certamente, certamente, l'equilibrio con se stessi è importante, molto importante. Abbiamo qui un'altra visitatrice, escursionista. Sì, buongiorno, Maria Antonietta. Io sono Maria Antonietta, vengo da Castellana, io originaria di Castellana Grotte, doc, pugliese. Da quanti anni questa passione? Io l'ho riscoperta grazie a Daniel, il mio ragazzo, quindi mi trovo molto molto bene, io lo seguo, diciamo. Certo che è colui che viene da Belluno. Abbiamo tante risorse nell'area ionica, nella provincia di Taranto e che andrebbero sfruttate. Questa, io dico, è sempre l'alternativa alla grande industria. Certamente, se, diciamo, puntare anche dal punto di vista turistico, io lo dico sempre, la Puglia, a maggior ragione, diciamo, questo territorio ha un potenziale molto molto elevato dal punto di vista naturalistico. Ci fossilizziamo sempre dal punto di vista industriale, il polo industriale, però in realtà avete veramente... Abbiamo, perché sei dei nostri, abbiamo, 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 abbiamo veramente delle belle realtà da sfruttare, da incentivare, da far conoscere molto di più alle persone che, a mio avviso, mi rendo conto che tanta gente non è a conoscenza di questo patrimonio, ecco. Tante attività non vengono conosciute, ci sono attività che sono completamente straniere per molti ragazzi, che poi, ecco, noi cerchiamo di parlarne, di... Però già queste iniziative della LIPU, dell'amministrazione comunale, questo marketing territoriale, certo, deve avvenire quel salto proprio di qualità, quella mentalità diversa di capire che le risorse del territorio fanno economia. Esatto, assolutamente sì. Bene, in bocca al lupo per le tante escursioni, avremo modo di rivederci. Grazie, buona giornata. Giovanni Matera, l'aereo. Tino Doc, imprenditore nel settore, appunto, dei mobilifici. Beh, è davvero raro, lo dico sinceramente, trovare un imprenditore che ama davvero il proprio territorio, non lo ama solo a parole, ma lo ama contribuendo in vario modo alla crescita dello stesso. Questa mattina ci siamo visti e proprio all'entrata dell'OASI lui diceva, ma se io... Lei diceva, ma se io vivo in un territorio più ricco, in un territorio che produce benessere, anche io, come persona, come azienda, beneficio di questo sistema virtuoso. In effetti tutto il marketing della materia di arredamenti, che noi la chiamiamo, ma la materia di arredamenti sociale addirittura oggi, è improntato proprio a questo, parte da un principio molto semplice, se cresci il territorio crescerò pure io. E' da qui che non solo ho aiutato me stesso e la mia azienda a crescere, quindi facendo dei corsi formativi su di me, sui miei collaboratori, ma dopo questo tipo di conoscenza sto cercando di passare anche ai miei colleghi, artigiani, commercianti, per aiutare loro. Perché è sempre quello il concetto, se aiuto gli altri, aiuto me stesso. E quindi aiuto le associazioni a crescere, tutte le associazioni del territorio, in un modo o nell'altro, chiaramente in funzione delle mie possibilità economiche, che il budget della materia di arredamenti mi permette, do una mano loro, li metto in contatto. L'altro giorno, per esempio, c'era la festa del vino a Ginosa, avevamo bisogno di una brocca in maiolica, io l'ho messo in contatto con la maiolica di La Terza, è stata realizzata, hanno premiato il primo premio, questi non si conoscevano, hanno conosciuto le associazioni coltivatorie, li hanno già ordinati dei manufatti in ceramica, questo è il mio comune, quello di mettere in contatto quello che è il territorio con le associazioni. C'è una bellissima espressione, che non dimentico mai, di Raoul Folerot, il quale diceva che nessuno ha il diritto di vivere felice da solo. Esatto, da soli si vegeta. Insieme invece si vive, c'è l'unione, come si dice sempre, il famoso detto, l'unione fa la forza e quindi unendo le varie sinergie, io per esempio il primo maggio con la Lipo organizziamo la passeggiata in Gravina. Cosa è successo? Siamo due imprenditori, io e Angelo Verdana, ma c'è l'era di La Terza, che insieme con la Lipo organizziamo la passeggiata in Gravina. Quindi sempre il fare sinergia, fare sinergia si può fare anche non con costi molto elevati, con niente. La forza delle idee. La forza delle idee. Io per esempio porto avanti un percorso formativo, anche perché faccio anche dei corsi formativi per artigiani, commercianti, i miei colleghi, per aiutarli a crescere, come ho detto prima. E' un mio corso predileo, uno che porto sempre avanti, è il marketing a costo zero. Si può fare marketing senza spendere un soldo, con le relazioni, relazionandoti con le associazioni, mettendoci la faccia. Oggi ci devi mettere la faccia, ci devi stare nella gente, devi stare nel territorio. E' questo il nuovo marketing. Si chiama marketing relazionale. E poi scatta il marketing esperienziale, che quando poi il cliente arriva nella tua azienda e devi saper servirlo al meglio, avere un prodotto giusto, di qualità giusta, prezzi giusti. Quindi la materiale d'amenti è improntata a questo. Quindi prima di tutto marketing relazionale nel territorio. E poi marketing esperienziale quando poi arriva nel tuo negozio. Manuel Marra, operatore didattico dell'Oasi Lipu di La Terza, ci piace così approfondire questi aspetti relativi alla didattica, perché poi queste risorse ovviamente devono avere un loro riscontro, un loro risvolto in termini proprio di didattica, di insegnamento e di apprendimento. Come vi state organizzando? Certamente. Come vi siete organizzati? Noi, come già anticipava il collega, siamo qui sul territorio alla terza da circa una ventina di anni, come ha detto anche l'assessore. E da vent'anni ci occupiamo di svariate materie, come la conservazione, la ricerca, la valorizzazione, la tutela e quindi anche la valorizzazione in termini di didattica, di educazione ambientale, che è un tassello fondamentale di tutte le nostre attività, perché ci consente di far conoscere alla collettività l'importanza di questo patrimonio naturalistico di immenso valore. Questo lo facciamo attraverso dei programmi. Noi abbiamo dei programmi di educazione ambientale, che ogni anno diffondiamo in tutte le scuole della provincia di Taranto, di Bari, ma anche di altre province, dove ovviamente mettiamo al corrente gli insegnanti che si occupano di queste attività, appunto su quello che noi possiamo effettuare in gravina, che possono essere delle visite guidate a tema, ad esempio sulla vegetazione, oppure delle visite guidate basate sulla conoscenza dell'Oasi nelle diverse stagioni, perché poi un sito va conosciuto nei suoi diversi stagionali. La natura e le sue forme nel corso delle quattro stagioni. Esattamente, c'è una dinamicità che deve essere sicuramente colta. Abbiamo una importante offerta con tante proposte ed è fondamentale lavorare con i ragazzi, perché i ragazzi di oggi saranno gli adulti di domani e far capire alla nuova collettività che questi sono dei valori aggiunti, sono dei valori che ci appartengono e che c'è una gravina in provincia di Taranto, che è la più importante del parco naturale regionale Terra delle Gravine, tra i più grandi d'Europa, con una biodiversità incredibile e di fondamentale importanza. I ragazzi rimangono superfatti quando vengono qui, innanzitutto dall'aspetto paesaggistico, perché già quello colpisce incredibilmente. Arriviamo a profondità che rasentano i 200 metri, quindi un canyon molto importante, e poi per la presenza di tantissime specie di elevatissimo interesse conservazionistico, come la voltoio capovaccaio, la cicogna nera, insomma e tantissime altre specie. Quindi la visite guidate hanno lo scopo di far conoscere ai ragazzi e far sentire proprio questo ambiente, ma in generale tutto l'ambiente, perché per amare un ambiente bisogna conoscerlo, per tutelarlo bisogna amarlo, quindi parte tutto dalla conoscenza. Altri appassionati di Arrampicata? Sì. Ecco, proprio le caratteristiche, oserei dire, geofisiche, le difficoltà che ci sono qui. Beh, questo non te lo so dire sinceramente. Noi veniamo qua sia per il panorama, sia per queste scalate che facciamo, no? E' proprio qui, a ridosso della grotta. Da quanto tempo questa passione? A me è pochissimo tempo, da un anno, che abbiamo intrapreso questo percorso. Abbiamo la montagna, poi piano piano abbiamo conosciuto anche quest'altro sport. Ci vuole anche una preparazione fisica, non indifferente? Sicuramente, quello prima di tutto. Non è che puoi venire a scalare non facendo nulla, ecco. Bisogna comunque fare palestra, attività fisica. Le tue impressioni, le tue sensazioni, la prima volta che hai visto questa immensità? È stata sicuramente una scoperta, perché la gravina di La Terza, noi diamo per scontato che i grandi canyon ci sono solamente all'estero, invece qui abbiamo un panorama, una presenza naturalistica molto importante. Poi noi, cominciando a vivere questo sport, abbiamo scoperto delle possibilità che non sapevamo nemmeno di avere, che sono quelle di poter scalare nelle gravine dove ci sono anche dei percorsi molto interessanti. Emiliano Montanaro, responsabile appunto per quanto riguarda il discorso qui della conservazione, sempre presso l'Ipu, ovviamente l'Oasi Lipu di La Terza. Ecco, il tuo ruolo, in cosa consiste la tua attività? Io praticamente mi occupo di gestire i volontari del gruppo locale di conservazione Lipu Area Gravina di La Terza, che svolgono attività e compiti di monitoraggio, quindi verifica per esempio il controllo delle specie, della vifauna principalmente, non solo, presenti in gravina. Monitoraggio anche delle specie a particolare interesse conservazionistico europeo, quindi particolari specie che possono essere a rischio d'estinzione, comunque specie in pericolo, più anche controlli ovviamente dedicati al controllo e alla tutela del territorio. Un'attività che non può non essere figlia di una passione, di un amore immenso per la natura. Non si potrebbe svolgere questa attività se non hai dentro un richiamo forte verso la natura? Sì, assolutamente. Com'è nata i tuoi studi, il tuo percorso per arrivare qui? Beh, è una passione che porto fin da piccolo. Sicuramente Fautori sono stati i miei genitori che fin da bambino mi hanno portato sempre in montagna per zone naturali e mi hanno insegnato chiaramente a conoscere, a saper riconoscere la natura che mi circonda. Chiaramente è una passione che poi ho portato avanti anche con i miei studi, anche se sono laureato in lettere. La passione l'ho conservata e l'ho portata ad oggi fino a questo momento, con anche un'ampia conoscenza dal punto di vista dell'ecologia, dell'ecosistema che chiaramente è importantissimo e molti dovrebbero imparare sempre di più a conoscere, visti i tempi che stiamo vivendo. Vedendo questo spettacolo della natura, questo si protetta e il discorso necessariamente va alla problematica della caccia. La caccia, va detto purtroppo, esiste da tempo in memore. Il problema della caccia oggigiorno è che è male regolata e male controllata. Su questo non ci piove. Basta vedere ciò che è successo recentemente in tutta Italia con l'apertura straordinaria e anticipata della caccia, molte delle specie protette, soprattutto per di più specie di importanza conservazionistica come possono essere falconi o aquile, sono state barbaramente abbattute. Un danno grandissimo per la vifauna, non soltanto italiana, ma chiaramente anche per la vifauna europea sotto questo punto di vista. Sicuramente ci vogliono dei controlli maggiori sotto questo aspetto. Bisogna tutelare specie che invece non dovrebbero essere più cacciabili e invece tuttora sono ancora cacciate. Certo, altro punto di vista, molti cacciatori purtroppo non conoscono meticolosamente le specie che dovrebbero cacciare, che possono cacciare rispetto a specie che ovviamente non sono assolutamente cacciabili. E' bello vedere che ci sono escursionisti non soltanto locali, già dall'aspetto fisico si vede che non sono italiani. E allora, where do you come from? From Germany. Vengono dalla Germania, la verete intuito. Ehm... 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 Che viene... Sono in vacanza, sono in Puglia e questi scenari pugliesi piacciono davvero. Ehm... How many days are you here? For two weeks. Due settimane stanno qui. So you can see... Ehm... Ehm... Nature... E Nature... And the beautiful city... Like Letcher... And Monopoly... Ehm... 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 Vedete, la Puglia che cresce, la Puglia turistica, e ci fa piacere, vedete, è un fatto così, spontaneo, non ci siamo un certo messi d'accordo, li abbiamo incontrati qui. Good luck, buona fortuna! Thank you, thank you. Thank you, bye bye. Thank you. Well, il momento delle conclusioni è stata una visita, un'esperienza bellissima. Confesso che non conoscevo la realtà di questa gravina, sì, ho sentito parlare, visto immagini, però viverla da vicino è tutt'altra cosa. Un impegno costante, ecco, i prossimi appuntamenti. I prossimi appuntamenti sono quelli, diciamo, dei funghi, che noi faremo una giornata micologica, proprio per permettere alle persone di riconoscere i funghi, quindi con noi ci sarà un micologo che farà una lezione proprio di riconoscimento sui funghi e poi un'escursione in natura per cercare questi funghi. Poi avremo, e questo arriverà il 28 ottobre. Poi abbiamo anche altre giornate, una dedicata ai mammiferi, il 14 ottobre, quindi domenica prossima, dedicata proprio alla conoscenza di questi animali che ormai soprattutto, diciamo, nel nostro territorio sono arrivati anche, come tutti sanno, i lupi che ormai si riproducono anche all'interno di questo parco regionale delle gravine e quindi sarà un'occasione, insieme a un esperto dell'Università di Bari, di conoscere meglio, approfondire meglio la conoscenza dei mammiferi in generale, in particolare del lupo. Devo dire che è un'esperienza bellissima e mi sento di ringraziare la LIPU innanzitutto, l'amministrazione comunale di La Terza per la sensibilità mostrata e la convinzione sempre più forte che è in me che noi dobbiamo vivere di natura, dobbiamo vivere di risorse naturali, dobbiamo vivere di turismo, basta con l'industrializzazione selvaggia e queste persone, questi operatori della LIPU, lo voglio sottolineare, l'ho visto proprio con i miei occhi, l'ho avuto modo di constatarlo personalmente, non è solo un'attività lavorativa la vostra ma è un amore, una passione, un rispetto sacro della natura e con questo ci salutiamo. Vi ringraziamo per essere venuti qui a trovarci, anzi rinnoviamo l'invito a tornare a partecipare a qualche altro evento con noi, è sempre un grandissimo piacere. Ora però ce ne andiamo in pubblicità.